Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati carissimi telespettatori di Fano TV, come tutte le mattine sintonizzatissimi siete in tanti davvero, grazie di cuore per tutto l'affetto, per il fatto che ci seguite tutte le mattine puntuali alle 7 e mezzo, anche nelle repliche. Grazie, dicevo, 7.30 in diretta, tra poco leggeremo i giornali, adesso vediamo il santo del giorno, oggi è San Girolamo, il sole è sorto alle 7.03 e tramunterà alle 18.53. Diamo lo sguardo al tempo, questa è la fotografia scattata un istante fa dal nostro osservatorio meteorologico che è accessibile dalla pagina internet occhialanotizia.it, anche oggi è una giornata nuvolosa, poco fa pioveva, 13.30 la temperatura di questa prima mattinata, oggi avremo un cielo parzialmente nuvoloso con particolari rovesci sparsi, più probabili nei settori settentrionali della regione, le temperature sono stazionari oppure in lieve aumento, i venti sono di brezza tesa da nord, il mare sarà mosso. Per la giornata di domani, domani è il primo di ottobre, avremo dalla tarda mattinata deboli precipitazioni diffuse nelle zone dell'entroterra e sparse lungo la costa, le temperature sono in aumento, i venti di brezza tesa orientali con raffiche fino a moderati lungo la costa, il mare sarà mosso, dunque domani è un'altra giornata perturbata, poi venerdì 2 ottobre ancora vedete cielo molto nuvoloso con le nuvole che sono di un grigio scuro, anche se non sono previste precipitazioni soprattutto sulla costa, mentre vedete invece sono previste sull'Appennino. Diciamo che comunque domani, cioè il venerdì sarà comunque una giornata grigia, quindi con temperature in aumento, venti sud orientali, il mare sarà mosso. L'inizio della prossima settimana la protezione civile del mare che prevede un probabile peggioramento soprattutto nella giornata di martedì, seguito da un netto miglioramento del tempo da mercoledì in avanti. Allora abbiamo la cronaca questa mattina con quell'operaio che si è fatto male parecchio in un cantiere a Pesaro, gli è stata già amputata una gamba, poi abbiamo la cronaca con l'arresto di un ladro e cominciamo da qui, dal Corriere Adriatico, un ladro che aveva ormai messo a segno un sacco di furti nelle case, infatti adesso se voi avete visto il telegiornale ieri vi invito a rivederlo oppure di guardare sul nostro portale internet occhianotizia.it c'è il filmato ma ci sono anche le fotografie in apertura. C'è un sacco di refurtiva che è stata recuperata dagli agenti del commissariato di Fano guidati dal dottor Stefano Seretti e è facile che ci sia anche roba che vi appartene, insomma, quindi cercate tra questa refurtiva se vi hanno rubato in particolare orologi. Ho visto che c'era una marea di orologi. Allora intanto è il Maznaser, questo 47enne macedone che è stato arrestato il sabato scorso, mentre a sinistra vedete la refurtiva che aveva con sé mostrata durante la conferenza stampa che si è tenuta ieri in questura. La polizia gli attribuisce 5 colpi nelle frazioni, si muoveva con uno scooter che era stato segnalato. Preso con le mani nel sacco, dicevo, razzia nelle case denunciati due fratelli. Nell'ambito del controllo del territorio sono finiti in manette anche due persone, 25 anni. Anche loro sono ritenuti malviventi specializzati in furti in abitazioni, molti dei quali commessi negli ultimi mesi del 2014. Poi sopra, si parla sempre sulla pagina del Corriere di Fano, forum raccolta porta a porta spinta ovunque. Il cartello di associazioni per i beni comuni intende partecipare alla redazione del piano provinciale dei rifiuti. Imprenditore slovacco avvierà a Fano una produzione di aerei. Ieri la presentazione del progetto, sinergie con le aziende della Nautica. E poi l'appello del centro studio di Vitruviani, si tuteli l'arco d'augusto sfruttato per gli affari. Seri, rimborso spese spinoso. Botta e risposta con Fano 5 Stelle sulla triffa chilometrica dalla casa all'ufficio. È un rimborso chilometrico spinoso, quello del sindaco Seri che l'anno scorso si è fatto rimborsare dal comune le spese della benzina per arrivare ogni giorno in municipio dalla sua abitazione di Carrara. Spinoso perché ne è nata una polemica vivace con il Movimento 5 Stelle e lo stesso Seri. Poi si parla del rogo invece che si è sviluppato all'azienda Profilglas di Bellocchi. Il rogo si è sviluppato a lavorazione ferma, si è svolto intanto ieri mattina il sopralluogo nel capannone della Profilglas in cui domenica scorsa si è sviluppato appunto un incendio a sopralluogo annunciato dall'assessore all'ambiente mascherina. Hanno preso parte anche Vera Storoni che è funzionario tecnico della regione Marche e Renzo Brunori dell'ufficio ambiente del comune di Fano. La guardia di finanza festeggia il patrono San Matteo. Alla celebrazione hanno partecipato tre generazioni di finanzieri mentre ieri a Pesaro c'è stata la festa per San Michele Arcangelo e quindi che è patrono della Polizia di Stato. Poi si parla di un tredicenne fanese che ha partecipato ai mondiali di calcio e pratica all'atletica. Si chiama Lorenzo è nato a Fano il 9 novembre del 2002 privo di una tibia. Lollo è stato infatti sottoposto all'età di quattro anni all'amputazione dell'arto sinistro. Lorenzo Marcantonini comunque che in molti già conoscono. Investito in bicicletta mentre va al lavoro un romeno travolto da una BMW in via Campanella per uno scarto improvviso. È stato investito ieri mattina poco dopo le 8, un romeno di 59 anni, residente a Fano che si stava dirigendo in sella la sua bicicletta nella zona industriale di Bellocchi. Poi i profughi, le donne profughe, una ventina, 25 persone, a Ronco San Baccio c'è una nuova struttura che è destinata ad accoglierle, accogliere rifugiati politici che appunto ha aperto i battenti a Fano. Questa struttura è quella di Ronco San Baccio con una capienza di 25 persone. Il centro, gestito dalla cooperativa Labirinto, è già entrato in funzione ed accoglie al momento 12 profughi di nazionalità africana. Ma la particolarità è che la struttura offrerà servizi dedicati alla popolazione femminile. Poi a Cartoceto studio, lavoro, consegnati assegni e attestati. Una cerimonia in comune per i ragazzi che hanno partecipato all'esperienza nel corso dell'estate. E poi ancora dal Corriere Adriatico, la pagina di Pesaro, Ente Fiere, il bilancio è ancora in rosso nonostante i tagli e le spese, c'è un buco di oltre 373 mila euro. Spunta un contributo dal comune di Pesaro. Non sono specificati compensi di amministratori, presidente e consiglieri, nonché del collegio sindacale. L'altra pagina invece si occupa, e siamo a Fossombrone, di un orafo, di un orafo raffinato della All Gold di Fossombrone, si chiama Giorgio Aguzzi, che adesso è andato in Cina e racconta la sua avventura orientale al giornale. Ma dalla pagina delle Marche, ci soffermiamo per un istante, sulla visita che il Cardinale Menichelli ha fatto ieri in consiglio regionale. C'è stato un dibattito in aula sull'enciclica di Papa Francesco. Il Cardinale si rivolge poi ai consiglieri e dice c'è un'alleanza tra me e voi, e cioè quella che serviamo tutti lo stesso popolo. Adesso andiamo invece sul messaggero. Il messaggero si sofferma anche oggi sul tema in apertura della sanità, va avanti il taglio delle liste d'attesa, ha approvato in giunta il decalogo delle prestazioni, addio alla CUP, le prenotazioni dunque si faranno dai medici. Ad aprile la prima verifica dei risultati della riforma. Centropagina un colpo da 20 mila euro preso con gli orologi svizzeri, catturato dalla polizia fanese mentre fugge con una collezione di orologi da 20 mila euro. L'aeroporto di Fano invece è stato scelto per produrre un dimotore. Si tratta di un'azienda slovacca, assemblerà nell'hangar il nuovo modello, si chiama Shark, è un aereo bimotore che sarà assemblato in un hangar dell'aeroporto fanese. Nelle pagine interne invece del messaggero, anche qui i titoli, taglia le liste, piano ok, esami medici fino a 18 ore al giorno, è stato approvato il decalogo, abbiamo già detto addio al centro unico di prenotazione, quindi a questo famigerato possiamo dire CUP perché c'è in linea di massima l'idea che non abbia mai funzionato alla perfezione, percorsi differenziati per le visite, dal dottore che prenoterà gli accertamenti anche il sabato e nei giorni festivi. Poi anche qui Menichelli parla in consiglio, fate crescere il pil etico e spirituale, dice il cardinale di Ancona Osimo che ha distribuito personalmente le copie dell'enciclica di Papa Francesco. Poi siamo sulla pagina di Pesaro invece adesso del messaggero, per la città è un pesarese di prestigio, Ivano Dionigi, magnifico, rettore dell'Università di Bologna, lo vedete in questa fotografia. Il Consiglio Comunale ha votato all'unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria a Ivano Dionigi, rettore appunto, come dicevo, di Bologna, il Presidente Bartolucci, il Presidente del Consiglio Comunale, alla guida dell'Ateneo, un incarico di rilievo mai ricoperto nella storia da un nostro concittadino. E ancora da Pesaro, Santa Marta, la scuola alberghiera, lo spezzatino fa paura, probabilmente giocando anche sul fatto che a Santa Marta si sfornano chef e quant'altro, si parla di spezzatino perché i ragazzi che torneranno a scuola il prossimo 5 di ottobre, quindi tra qualche giorno, però ancora visto che ci sono i lavori all'interno dell'Istituto della Casa Madre, insomma sono destinati ad andare un po' qua e un po' là. Quest'anno un vero boom di iscritti con 10 nuove prime, addirittura pensate 10 prime classi, quindi un'esagerazione, ma la suddivisione in 5 sedi crea allarme per il futuro. Il Presidente Nicolini si dice preoccupato anche per i ritardi dei lavori, voglio vedere i pareri di agibilità firmati e controfirmati. Intanto oggi c'è riunione sulla rete scolastica, tra le ipotesi anche la succursale a Fano dell'alberghiero, dunque si torna alla carica e c'è l'idea di aprire questa sede di staccata dell'alberghiero a Fano. Perché? Perché circa 300 studenti su 900 arriva dalla Valle del Metauro e quindi dicono pensiamo che uno sbocco a Fano possa essere funzionale anche per liberare spazi a Pesaro e creare laboratori di pasticceria e di chimica, quello che manca per fare un altro salto di qualità e dunque il Preside si aspetta delle risposte. Poi Oriano Giovanelli, ex Presidente di Lega Autonomie, fusioni meglio delle unioni ma vanno condivise. Giovanelli dice il processo tra Pesaro e Monbaroccio mi sembra calato troppo dall'alto, per questo i cittadini protestano. L'ex Presidente di Lega Autonomie parla anche dell'operazione Urbino-Tavoleto che sarebbe l'altra fusione in ballo, la scelta si dice apprezzabile, lui dice è una scelta apprezzabile. Mentre sotto Vichi che è diciamo il sindaco di Monbaroccio, pronti dice lui a rispondere alle domande dei cittadini. La proposta di incorporazione tra i due comuni, oggi in provincia, venerdì incontro pubblico in palestra, un nuovo incontro pubblico. La pagina di Fano invece del messaggero, ladro catturato mentre fugge con 20.000 euro in orologi, ruba collezione di cronometri svizzeri in una villetta Carrara, inseguito e preso. La polizia recupera anche la refurtiva di altri furti commesse in abitazioni. Il commissariato mobilitato contro il boom di colpi nelle case, denunciati anche due albanesi. Poi sulla Profilglas dopo l'incendio il comune chiede garanzie, poi il dramma a Marotta, un giovane negoziante tenta di uccidersi gettandosi dal terzo piano, adesso è gravissimo, è successo ieri mattina poco dopo le 8 in viale delle regioni. Un 29enne del posto, un commerciante si è gettato dal balcone al terzo piano di una palazzina in un quartiere centrale della città dove vive, insieme ai genitori e al fratello. Sotto, sempre sulla pagina di Fano del messaggero, l'aeroporto scelto per produrre un bimotore caccia i fondi europei al lavoro. Ci sono nel comune di Fano due consulenti che fanno parte appunto dell'ufficio Europa. Andiamo sul resto del carino per chiudere. Quasi 3.000 conti a San Marino, il mio non c'è di sicuro, la finanza a caccia dei milioni, le fiamme gialle scremano le posizioni penali da quelle amministrative. Tra il 2006 e il 2014 sono stati 2.867 i residenti in tutta la provincia di Peso Urbino che sono arrivati alla Rocca e hanno depositato soldi nelle banche e nessuno immaginava all'epoca che a San Marino poi avrebbero avuto una crisi di coscienza e avrebbero preso poi la decisione di uscire dalla blacklist dei paesi che nascondono o riciclano soldi in nero mettendo quindi a disposizione delle procure italiane l'elenco dei clienti delle proprie banche. Così appunto è successo. Però gli inquirenti non parlano, si sa solo che al lavoro lo Scico è un nucleo addirittura speciale per indagare su questi conti sanmarinesi. Poi schiacciato da una trave di 150 quintali le urla strazianti di questo operaio che lavorava in un cantiere di cattabrighe, siamo sempre a Pesaro, lui gredava aiuto, le gambe, una gli è stata tagliata, la capriata ha ceduto e ha trascinato l'operaio che vi era ancorato, ha tranciato, ha maciullato le gambe, purtroppo Emanuele Uccellani di 39 anni di Gubbio è ricoverato in gravissime condizioni. La pagina di Fano invece, ho inseguito le zingare ladre, un insegnante mette in guardia tutti, ecco come agiscono e lo racconta questa mattina sulle colonne del Carlino. Si tratta di una donna, Melissa Rosate, un'insegnante fanese di 37 anni che mette in guardia i suoi concittadini e dice lei, ci sono in circolazione tre donne che vanno in giro con una Fiat Punto Grigia, si fermano accanto alle auto in sosta in zone isolate, spaccano il vetro e rubano quello che avete lasciato incustodito all'interno con tutti i particolari in questo articolo. 25 migranti a Ronco Sambaccio, Don Gianni dice non ha senso sparare a zero su persone che non si conoscono, più o meno tutti dello stesso tenore, le dichiarazioni dice per esempio Angiolo Farnetti della Caritas, il bene va fatto, il bene va fatto bene, Angiolo è il presidente della Caritas, dicevo, dobbiamo operare in maniera attenta e senza fretta, un po' praticamente riprende le parole che ha detto il Vescovo l'altro giorno proprio ai nostri microfoni, anche perché questa sarà una crisi migratoria lunga che non è destinata a fermarsi nel giro di poco tempo. Lo spettro della mobilità, parliamo ancora di crisi del lavoro, alla MF, ieri c'è stato il presidio degli operai, un 47enne dice mantengo moglie e figlie, ho 37 anni, faccio, questa è un'altra dichiarazione ancora, ho 37 anni, faccio l'operaio in questa fabbrica da quando ne avevo 22 e le notizie degli ultimi giorni ci spaventano perché non sappiamo che fine faremo ed è preoccupatissimo uno di questi 85 dipendenti della Corgi, la SPA appartenente alla Holden che ha sede a Correggio in Emilia e che ieri mattina hanno incrociato le braccia per protestare contro l'apertura della procedura di mobilità. Chiudiamo con i nodi della politica che riguardano la fusione tra Monbaroccio e Pesaro perché l'assessore delle Noci insieme al sindaco di Pesaro Matteo Ricci a un certo punto hanno consultato i saggi di Roma che poi visto come sta andando l'Italia tanto saggi non mi pare, comunque vabbè adesso non mi pare, non mi pare, Ricci e delle Noci comunque consultano i saggi, hanno dato tutti ragione a noi quindi per loro la fusione se si farà non mette a rischio il discorso dello sblocco del patto di stabilità perché il Viminale aveva messo ieri un po' qualche dubbio, qualche pulce nell'orecchio a qualcuno, quindi pareva che insomma anche se poi c'era questa cosa della fusione il patto di stabilità non era poi così certo e automatico. Allora ieri subito telefonate a destra e a sinistra per capire se in realtà questa cosa era vera oppure no, invece oggi viene fuori che il parere del Viminale non è vincolante, scrive così il resto del Carlino. Dal gabinetto di Padoan fino ai vari sottosegretari tutti dicono sono d'accordo, sono concordi con quello che diciamo noi, con quello che sosteniamo noi ed è stato quasi dunque un sondaggio. Direi che non c'è altro per la rassegna stampa di questa mattina, dunque ci fermiamo qui, io vi ringrazio per l'attenzione, come sempre vi ricordo che c'è il nostro sito internet occhiolanotizia.it sempre aggiornato, curato, che potete consultare in qualsiasi momento sia dal telefono, degli smartphone e quant'altro. A proposito di smartphone, ho visto ieri le statistiche di Google Play, più di mille persone hanno scaricato la nostra applicazione gratuita per avere sempre tutto sotto controllo, tutto sotto mano, per avere sempre le informazioni aggiornate sulla città e sul territorio. Quindi andate su Google Play se avete Android, uno smartphone Android e scaricate, cercate occhio alla notizia e scaricate l'applicazione perché è molto utile e davvero può essere utile per tante cose. Adesso non sto qui a farvi l'elenco ma sicuramente la troverete utile. Poi stasera invece c'è il telegiornale, occhio alla notizia come sempre alle 20.30. Una serena e una buona e piacevole giornata a tutti voi. Arrivederci.